Questo è il corso di fondamenti della comunicazione Cominciamo con qualche introduzione e informazione al corso Libro di test Consiglio questo libro qui, si chiama Proakis Salei, gli autori Fondamenta Sol Communication Systems Pearson 2013 E' in inglese, come vi ho detto in precedenza, ma chiaramente è un inglese piuttosto semplice E' in inglese tecnico Che vi devo dire? Se prendo una pagina a caso E vi leggo The major advantage of conventional AM Sigla Transmission Non credo ci voglia una laurea per capire che the major advantage è il maggior vantaggio E of conventional è della convenzionale AM Del segnale M convenzionale Così via Insomma, questo a dirvi che è un libro in inglese, ma non spaventatevi E' inglese tecnico E l'inglese tecnico deriva da latino Quindi è praticamente tutto quanto Sono parole che già conoscete Quindi molto semplice In maniera tutto equivalente consiglio il secondo libro Che si chiama Communication Systems Engineering Che è sempre dei stessi autori Soltanto l'anno è differente Poi è il 2001 Cosa cambia? Allora, paradossalmente il secondo è più completo del primo O meglio Il primo ha un maggior numero di cose più recenti Vi faccio un esempio Addirittura il secondo arriva a parlare di Multicarrier modulation and OFDM Quindi modulazioni multicarrier e OFDM O altre cose del genere che sono abbastanza recenti e nuove Mentre sul primo, che è un po' più vecchio Sul secondo Communication Systems Engineering Che è un po' più vecchio Non ci sono Tuttavia questo è un corso Che facciamo noi di fondamenti delle comunicazioni Quindi non arriverò mai a quel livello di dettaglio Quindi ai fini del nostro corso Le cose che ci servono a noi Stanno su entrambi i libri Anzi, paradossalmente sul secondo Sono affrontati anche in un livello un po' più rigoroso Perché qui Fa un approccio più semplicistico Come sapete O come potrete immaginare Ci sarà di lavorare con probabilità Perché magari sono una probabilità di errore Trasmetto un segnale Ricevo un altro Questo segnale ricevo è diverso da quello trasmesso Perché c'è l'inevitabile presenza di rumore E magari su 10.000 bit qualcuno lo sbaglio Ci sarà un errore Quindi c'è intrinsecamente qualcosa di probabilistico C'è una probabilità di errore Beh, l'approccio che segue Il primo libro Cioè questo qui È quello di dividere le cose in due campi Facciamo prima la cosa L'argomento lo vediamo prima Come se fosse deterministico E poi introduco la probabilità E lo rivedo tutto quanto Dal punto di vista probabilistico È un po' uno spreco di tempo Voi che già avete fatto un corso Bello e importante di probabilità Le sapete già queste cose E allora preferisco l'approccio secondo Che poi seguiremo noi Cioè ogni volta si farà un formato di modulazione Poi si vedranno anche le sue prestazioni Che spesso sono date In termini di probabilità di errore Subito Inutile ritencare tutte quante E poi dopo un mese Ricominciate dalla prima Per capire qual era quella probabilità di errore L'avete sfiduato un mese fa Sarà difficile ricordarsi Quindi se trovate il secondo Va bene lo stesso Credo sia addirittura presente online Sul sito dell'autore Quindi non c'è neanche bisogno di comprarlo Però non lo so Verificate In alternativa c'è anche il terzo Aikin e Moer Introduzione alle telecomunicazioni analogiche digitali In italiano Ci assomiglia un pochino Questo è Modalità d'esame L'esame è solo scritto La prova scritta dura tre ore E in questa prova scritta C'è bisogno di rispondere Di svolgere Degli esercizi I due terzi del compito Saranno esercizi Ma anche rispondere a domande Di teoria In cui bisognerà presentare per bene L'argomento Discutere In dettaglio Circa un terzo dell'esame Quindi non trascurate la parte di teoria Quindi non è che siccome l'esame è scritto Fate soltanto gli esercizi E la teoria è dimenticata La teoria conta per un terzo addirittura Quindi un terzo vuol dire Due terzi è 18 E un terzo è 12 Quindi con solo esercizi si può arrivare al massimo a 18 Però è difficile fare tutti gli esercizi perfetti Sbaglio una virgo e già si sta sotto Ok Nove crediti La mia email è questa qui E.grossi.unicas.it E c'è anche una pagina web Anche se il sito è un po' vecchio E' quello del vecchio sito Unicas Però è ancora in piedi Lì ci trovate qualche informazione Tipo qualche tema d'esame passato Il programma del corso dettagliato Però queste cose le trovate anche sul sito Unicas Dell'Ateneo Del corso di studi Argomenti adattati Segnali e sistemi Infatti le autorità di segnali sono molto importanti Capitoli 2.5 del libro Perché? Perché dobbiamo preoccuparci di trasmettere un'informazione Da un punto all'altro Quindi questa informazione per essere trasmessa Dovrà essere modulata E intanto questa informazione dovrebbe essere immagazzinata in un segnale E qui dovrebbe sapere bene i segnali Perché il segnale porta l'informazione Poi deve essere trasmessa Come la trasmettiamo? Con una modulazione Che viene implementata in un sistema Quindi segnali e sistemi Trasformi di Fourier Bisogna sapere per bene Poi affronteremo le modulazioni Le modulazioni che ricordate cosa sono Sapete cosa sono Avete fatto il terreno In modulazione a tre segnali Che significa essenzialmente spostare Il segnale Dalla banda base A una certa frequenza Perché la sposto da quella banda A un'altra frequenza? E perché magari il mio canale di trasmissione Sta proprio a quella frequenza Ad esempio Se voglio trasmettere wireless E io ho un segnale In banda base Cioè attorno ai 0 Hz Quando lo mando a un circuito Che si apre Che è un'antenna È un circuito aperto E non esce nulla Perché è un circuito aperto Se invece ci manco qualcosa A alta frequenza Kilohertz Quella coppia di fili Aperti Si comporta con un'antenna E emette il radiae E qui il segnale Viene irradiato nello spazio Però per essere irradiato Deve andare a roba tipo Kilohertz Megahertz Gigahertz E ce lo devo portare ai gigahertz E come ce lo porto? Spostandolo da banda base 0 Hz Ai Kilohertz Megahertz E gigahertz Con la modulazione Ci sono tanti formati di modulazione Questo è il più semplice Vi ho elencato E li studieremo quasi tutti quanti Cominceremo con le modulazioni analogiche Di ampiezza Capitoli 3 e 6 Qui vedete sono 3 e 6 Perché il 3 è Studio e formato Il 6 poi analizza le prestazioni Ma non le faremo assieme Modulazioni analogiche angolari Guardate un esempio di questa È la radio AM Quella si sente sulla macchina Quella è una modulazione analogica di ampiezza Vi segnavo l'orario via radio Arriva con la modulazione E Modulazioni analogiche angolari In cui si varia l'angolo della portante Un esempio è la modulazione FM Frequency modulation Faremo anche quella Capitoli 4 e 6 del libro E questo riguarda un po' la prima parte Una piccola parte del corso Quella che riguarda l'analogico Ma adesso sapete tutti quanti Vi siete accorti Che il digitale ha sempre più importanza E qui la gran parte del corso Sarà invece incentrata sul digitale Come si passa l'analogico a digitale Perché alle volte le informazioni Che trasmette in digitale Provengono però Da sorgenti analogiche Come io posso trasformare L'analogico a digitale Attraverso le conversioni Analogico a digitale Capitolo 7 del libro Di questo libro Poi dopo andrete a trovare I corrispondenti capitoli Dell'altro libro Communication Systems Engineering Del tutto equivalente Dopo di questo potremo studiare Per bene le modulazioni digitali E vedremo quello mono e bidimensionali Capitolo 8 Multidimensionali Capitolo 9 E poi affronteremo il problema La sincronizzazione Perché se la trasmissione è digitale Vuol dire che l'informazione è canalizzata Cioè in questo slot temporale C'è un bit In quest'altro slot un altro bit E così via Quando andate a decodificare Dove sapere bene dove inizia il bit Altrimenti Se state spostate un po' più a destra Nel tempo Un po' più a sinistra Decodificate male O addirittura potesse stare a cavallo In cui la prima metà del mio intervallo Vedo il bit di prima E nella seconda metà Vedo il bit di dopo E cosa decodifico? Mi devo sincronizzare per bene E' un bel problema questo La sincronizzazione Capitoli 8.8 e 8.9 Quindi soltanto una parte del capitolo 8 E una piccola parte del capitolo 9 La tratteremo in maniera un po' meno approfondita Poi andremo a vedere Questo riguarda la trasmissione Fra un punto e l'altro Ma non ci preoccupiamo di quello che c'è in mezzo Il canale di comunicazione Il canale di comunicazione poi però Darà seri problemi Soprattutto se è molto Se la tratta da percorrere è molto lunga Affronteremo quindi il problema Dell'attenuazione e del rumore E infine questa parte qua L'ho messa Ci sono riuscito a farlo a pochi anni Ma spesso non ci riesco Per mancanza di tempo Ed è la codifica del canale Essenzialmente qualcuno forse se lo ricorda Se ha fatto l'istituto tecnico Qualcuno invece l'ha sentito nominare Codifica a correzione di errori Essenzialmente si codifica Il segnale di permesso Per proteggersi e rendersi robusti Da eventuali errori introdotti dal canale Bitti di parità Forse qualcuno si deve nominare Quegli argomenti lì Ma non so se riusciranno a fare Prope ideudicità In realtà questo è il titolo di quella slide Ma non sono vere e proprie ideudicità Perché qui non ce ne sono Voi potete fare anche esami Partendo all'ultimo e finendo col primo Anche se è sconsigliato Sempre consiglio seguire l'ordine Perché l'abbiamo messo in quell'ordine Proprio perché quello è logico E le conoscenze richieste Vengono in quell'ordine Diciamo che queste sono le conoscenze necessarie Per la comprensione delle lezioni Cioè per essere in grado di comprendere le lezioni Bisogna sapere questi tre argomenti Calcolo delle probabilità Eh sì Probabilità e informazioni Bisogna saperla per bene Perché Perché l'informazione che si vuole trasmettere Ha natura aleatoria Ok? Se io vi faccio una domanda Vi ne aggiungo al calcetto stasera La vostra risposta tramite messaggio di testo È una fila di caratteri Ma può essere o sì o no E io a priori non so qual è La tua risposta Magari potrebbe essere 50 e 50 Che vieni 50% non vieni E come vedete è già aleatorio Ok? Tutto sarà aleatorio Soprattutto il segnale ricevuto Perché il segnale ricevuto È fatto segnale trasmesso Più rumore Che inevitabilmente è presente In qualsiasi comunicazione Perché c'è perlomeno un rumore termico Che disturba E quindi vuol dire Qualche bit va perso Perché c'è un errore C'è anche una probabilità di errore Insomma tutto è probabilistico Quindi la probabilità sarà fondamentale Perché le modulazioni digitali Verranno tutte caratterizzate In base alla probabilità di errore Di cui è formato di modulazione L'analisi matematica Per forza Qualche integrale Qualche derivata Bisogna saperla fare Un po' di numeri complessi Per forza Perché si lavorerà spesso Con la trasformazione di Fourier Nel dominio della frequenza Quindi per forza Bisogna saperla E poi la teoria dei segnali Perché questo L'essama che viene dopo La teoria dei segnali La teoria dei segnali Ci dice Come funzionano i segnali E i sistemi Noi dobbiamo prendere Quelle conoscenze Per imprimirci sopra L'informazione E trasportarla A un altro posto Ok? Quindi la teoria dei segnali Bisogna saperla per bene Questo è un po' Tutto quello che c'è da sapere Sul corso E niente più Ora La rimanente ora Sarà semplicemente Una breve introduzione Alle telecomunicazioni Sotto forma di Accendi storici Intanto Telecomunicazione Da cosa deriva? È una parola composta Ci sono due parti Tele Che deriva dal greco Lontano Comunicazione Deriva dal latino Comunicare Condividere Quindi diciamo Condividere Si vuole condividere A distanza Qualcosa Che cosa L'informazione Le telecomunicazioni Nascono dalla esigenza Dell'uomo Di condividere Le proprie idee Le proprie informazioni Nello spazio E nel tempo Perché io posso Trasmettere La mia informazione Nello spazio Cioè a distanza Di chilometro Ma anche nel tempo La scrivo Su un libro E la riapro Questo libro Fra qualche anno O su un hard disk E lo rileggo Fra qualche mese Qui voglio Voglio conservare Quindi tramandare Nel tempo O trasportare Nello spazio E' indispensabile Per ogni società Organizzata Per soddisfare I bisogni Dei cittadini E le esigenze Dei pubblici poteri Penso che non debba Aggiungere altro Insomma Le comunicazioni Vengono utilizzate Dappertutto Se da un punto di vista Militare Pubblico Civile Qualsiasi parte E spesso L'avanzamento Dei sistemi Di comunicazioni E' un indice Del grado di civiltà Raggiunto Da una certa società Quindi è molto importante Ma per farvi capire Quanto è importante Questo argomento Cioè l'informazione Basta guardare La definizione Che hanno dato i sociologi Della società Dell'era Del momento Che stiamo vivendo adesso La chiamano Società dell'informazione Dopo la società post-industria C'è la società dell'informazione Che cos'è? Beh non c'è una definizione formale Quella che ho riportato qui È presa da wikipedia Figuratevi Leggiamola La società dell'informazione È una società Dove la creazione La distribuzione L'uso L'integrazione La manipolazione L'informazione Riveste un ruolo Significante Dal punto di vista Economico Politico E culturale Ok? Ciò che guida Questa società Sono L'ICT Information And Communication Technologies Quindi tutte le Tecnologie Di informazione E comunicazione Quanto sono importanti? Beh Ve lo faccio vedere Con un grafico E spesso faccio vedere Quando facevo orientamento Questa è una tabella Che classifica I 10 titoli Azionari Che hanno maggior Capitalizzazione Al mondo Ok? Quindi Dal primo al decimo Quello è il titolo Che non bisogna analizzare È preso da Solo 24 ore Però dell'anno scorso Per il 2018 Però Non credo siano cambiate Molto le cose E soltanto Ti darvi un esempio Di quanto Veramente Sia importante L'informazione Nella società odierta Quello che c'è fianco Invece È La capitalizzazione In milioni di euro Quindi Quelli sono 588 mila milioni Quindi sono 588 miliardi Di euro La prima Azienda Per capitalizzazione In borsa È Ha una capitalizzazione Di 588 miliardi Di euro Sapete che Il PIL dell'Italia Sa una roba Tipo 1.800 Miliardi Il PIL Di molti stati mondiali Non arriva A 588 miliardi Di euro E guardano Un po' Chi è? Apple I secondi due Sono Alphabet C B&A E Google Poi c'è Microsoft Poi c'è un tapo Il title Perché quello non è Berkshire È Berkshire Quindi è una holding Finanziare Che possiede Tante altre società Finalmente c'è Una società Che non è Una società Di information E communication Technology Poi Exxon Finalmente una società Pedorifera In realtà Exxon Mobile E poi di nuovo Amazon Facebook Bene 1 2 3 4 5 6 6 6 su 10 Delle aziende A maggior capitalizzazione Nel mondo Sono aziende Che lavorano nel mondo Per l'information And communication Technology ICT ICT Questo dovrebbe darvi Un'idea di quanto Sono importanti Le comunicazioni Nel mondo adesso E' per questo Che ci troviamo Nella società Dell'informazione Pare che Una stima Del denaro Speso Nel campo ICT Nel 2017 E' in 3.800 Md. di dollari Nel mondo Con crescita Però del 5% All'anno Cioè ogni anno Cresce il 5% E se accumulate 1 più I alla N 1 più 5% Alla N Per N Quindici Già avete più Raddoppiato Basta 14 Qualcosa Quindi ogni 15 anni Si raddoppia Bene Ma questa è L'epoca moderna Le comunicazioni Come sono nate Quali sono le prime Forme di comunicazione E' chiaramente Quella orale Per migliaia E migliaia di anni L'unica forma Di comunicazione E' stata quella orale Si tramandava Oralmente Poi Si è finalmente Passati alla scrittura Quindi la Trasmissione Sarà possibile Travandare Non solo Nello spazio Ma anche Nel tempo A se stessi E poi Ci sono sempre stati Segnali Di tipo Visivo E sonoro Che permettono Di comunicare A distanza Come tamburi Fiaccole Falò Bandiere Qualche esempio Eschilo Narra In una sua tragedia Che la caduta Di Troia Sia stata Comunicata Dall'Anatoria Ad Argo Tramite una catena Di falò Accesi Pare che le tratte Fossero queste E le tratte Sono state scelte In modo tale Da evitare Ostacoli Di linea di visto Con 1, 2, 3, 4 5 tratte Si è riuscito A coprire Una bella distanza Circa 400 km Questo è stato Un esempio Di comunicazione A distanza Tuttavia In questa maniera Le posso trasmettere In un'informazione binaria 1, 0 1, fiaccola accesa E caduta Troia 0, ancora non è accesa E non è ancora caduta Quindi sto mandando Un bit di informazione Pochissimo Se volessi mandare Più di un bit di informazione Che dovrei fare? Cosa potrei fare? Beh Questo è un altro esempio Un telegrafo potrei fare In questo caso ottico Perché siamo 203 a.C. Polibio Stesso principio Metto Una stazione trasmittente Magari su un'altura Una stazione ricevente Magari su un'altra altura Perché le metto su un'altura Così è difficile Che abbia ostacoli Che mi permettono Di non vedere L'altra stazione Su una stazione C'è un operatore Che manipola Un certo numero di torce Ne alza Un certo numero Sulla mano destra E un certo numero Sulla mano sinistra Con quale criterio? Beh, c'è una tabellina Che racchiude La lettera dell'alfabeto È una matrice 5x5 Ogni lettera Individua una coppia di numeri Indice di riga Indice di colonna Se l'indice di riga è 4 E di colonna è 3 Sto individuando la sigla E quindi la codifico Questa lettera Con i due numeri Indice di riga e di colonna Cioè 4x3 4 torce Nella mano destra E 3 torce Nella mano sinistra L'operatore D'altra parte Guarda Vede 4 torce da un lato 3 torce dall'altra Ha a disposizione La stessa tabellina Di decodifica A questo punto Perché ricodifica Quando la leggo Per trasmettere Di decodifica Quando guardo E la utilizzo Per decodificare E traduce 4x3 Incrocia E legge la lettera Che aveva trasmesso E' un po' Lungo E prolisso La tecnica Però si possono trasmettere Una lettera per volta Frasi Parole Frasi Messaggi anche lunghi Badate che in questo Schema di In questo telegrafo Questo è tutti gli effetti Un telegrafo Come quello elettrico Di Morso E' esattamente un telegrafo Certo abbiamo qualche problema Perché magari Se c'è la nebbia Non si vedeva nulla Forse si poteva utilizzare Magari anche di notte Perché c'erano le siaccole Però aveva parecchi problemi Però comunque sia Si riusciva a trasmettere A una bella distanza E in breve tempo Perché Magari una distanza Di 400 km Si può coprire Con Magari una mezza giornata Mentre invece Immaginando un cavallo E un messaggero Sul cavallo Che si fa 400 km Si parla di settimane o mese Una settimana Comunque Sono presenti Tutti quanti Gli elementi base Che sono caratteristici In un qualsiasi sistema Di comunicazione Ci sta un alfabeto Di sorgente Che sono essenzialmente Le lettere e i simboli Da trasmettere In questo caso Sono proprio lettere C'è una codifica Che quindi è un'applicazione Una funzione Che mi associa Ad ogni lettera Una certa parola codice Cioè Una certa configurazione Di torce Poi c'è un trasmettitore Che è la persona Che fa esattamente Quest'operazione Che solleva le torce C'è un canale Di propagazione Che è l'edere Lo spazio libero In cui si propagano Le onde elettromagnetiche E luce In questo caso C'è un ricevitore Che è l'operatore Che sta dall'altra parte Che osserva le torce Le conta E un decodificatore Che è Magari sempre L'operatore stesso Che però Con la tabellina Decodifica E lettera per lettera Riceve il messaggio Guardate Questi Blocchi sostanziali Che costruiscono Questo sistema Di comunicazione Sono gli stessi Che caratterizzano Qualsiasi Sistema di comunicazione Anche i più moderni Di oggi Possono essere Rappresentati Da questi Blocchi Qui Che vi ho appena descritto Bene Questo telegrafo ottico Di Bolivio È stato il meglio Che si riusciva a fare Per parecchi anni Per un paio Di migliaia di anni Tant'è vero Che In questa Slide qui Vedete Il telegrafo ottico Sempre Di Chape Che lo si pronuncia Così è francese Qualcuno ha fatto Il francese Mi può Correggere 1793 Il principio è lo stesso So che stavolta Non si usano fiaccole Ma si usa Una torre Con delle pale sopra E a seconda La conformazione Che la pala Assume Nello spazio Io Ad ogni conformazione Associo una lettera Basta con la tabellina Di conversione De conversione E io posso Trasmettere distanze Le stazioni Possono essere distanti Anche 30 km Perché 30 km? Perché poi A un certo punto In poi Ci sta la curvatura Della superficie terrestre E oltre non posso andare Ma in ogni caso Magari Se anche ci potessi andare Oltre un certo limite È anche difficile vedere Mi posso aiutare Anche a un cannocchiale Ma non è che Posso andare così lontano Ma in ogni caso Una stazione distante L'altra 30 km È comunque notevole La prima linea Fissa Pareggi Lille 1794 E giusto Per dargli un esempio Il tempo di trasmissione Pareggi Tolone È stato ridotto A giorni A 20 minuti soli Per trasmettere un messaggio Quindi un guadagno È mostruoso Si potrebbero fare operazioni Quasi in tempo reale Immaginate che dovevate Non so Muovere un esercito E mandare un ordine Una cosa è mandarla in giorni E una cosa è mandarla in 20 minuti Questo messaggio Immaginate dovevi fare una transazione E comprare le azioni Anche all'epoca si comprava Una cosa è fare in giorni Adesso si fanno le transazioni online In nanosecondi In millisecondi Perché in secondi È ancora troppo lenta All'epoca La differenza Trova farla in 20 minuti E in giorni Era cruciata Forse avete visto anche questa cosa qui In un film Libro Il Conte di Monte Cristo Se qualcuno l'ha letto Ricorderà che In una delle sue vendette Su uno dei suoi abuzzini Nel passato Si vendica Facendogli perdere tutto E lo fa come? Prego? Esatto Gli dà informazioni sbagliate E gli costringe E lo convince A comprare delle azioni Che però in realtà Stavano andando molto male E per convincerlo Fa un po' Leafs dropper Perché Fa lagare del tempo Perché Corrompe uno di questi Operatori Di una stazione Fa trasmettere Il messaggio sbagliato Quello in cui Quelle azioni Stanno salendo di parecchio Lo convince quindi A comprarle Le compra Ci investe quasi tutto E poi perde tutto Perché invece Era un'informazione fassa Che lui aveva inserito Questo è uno dei problemi Di questo metodo di trasmissione È facile che tu Corrompi le informazioni Qualsiasi persona Può andare lì Mette un coltello Alla gola All'operatore E capisce le informazioni Quindi non è segreto L'informazione È un problema Che abbiamo anche adesso Non solo Non funziona Questa non funziona Anche di notte Insomma C'è parecchi problemi Però comunque Era molto utile Poi finalmente Qualcuno ha pensato Che Si potesse trasmettere Anche in altra maniera Che non sfruttasse Le onde elettromagnetiche Luce Ma sfruttasse Altre onde elettromagnetiche Qui stiamo parlando Del tricofone elettrico Quindi stiamo su altre Frequenze Molto più basse Morse Intuisce Che si può utilizzare Quanta elettrica Per trasmettere un messaggio Da un punto all'altro Sempre che questi due punti Siano collegati Trappi da un filo Mando in pulsione corrente E badate Che vedete Una delle prime forme Di comunicazione È digitale Tregafottico di Polibio Trasmette una lettera per volta Le lettere sono 26 Uno fra 26 Possibili e tre Alfabeto distretto Digitale Oddio Le primissime forme di comunicazione Era una logica La voce È una logica Però appena andiamo un po' più Cominciamo dall'era Che non sia la pre-storia Oppure Ancora prima Le prime forme di comunicazione Sono digitali Lettere Col telegrafo ottico Lettere Col telegrafo ottico E sciacquè E ancora qui Il telegrafo elettrico Sono ancora simboli Perché si trasmettono Gli impulsi Impulso breve Impulso lungo Punto e linee Ci sono due possibili Impulsi Quindi è digitale L'informazione È mandata In realtà non è binaria Binaria è un solo bit Zero e uno Tratto e punto Impulso lungo Impulso lungo Impulso breve In realtà non è proprio binario Perché ci sono cinque possibili simboli Si trasmettono nel codice Mossa E sono l'impulso breve L'impulso lungo L'intervallo breve L'intervallo medio E l'intervallo lungo Sono cinque possibili simboli Quindi non è un alfabeto binario Due possibili simboli Anche se si può fare anche binario Però già c'è una cosa Molto molto importante Nel codice di Morse In che senso nel codice? Perché qui stiamo parlando Del telegrafo elettrico di Morse Che è l'idea di trasmettere informazione Tramite un impulsino di corrente elettrica Su una linea Però con quale regola Si associano le lettere Agli impulsini? Con un codice Che lui stesso si è inventato E come l'ha inventato? A lunghezza variabile Vedete? Non tutte le lettere Hanno la stessa stringa Giustamente Ha fatto un'analisi statistica Ha visto che alcune lettere Alfabeto inglese Sono utilizzate molto più spesso Di altre lettere Le vocali E allora A quelle lettere Molto più utilizzate Gli ha dato una stringa Di codice Molto più corta A quelle lettere Meno utilizzate Come la Q Gli ha dato una stringa Di codice Molto più lunga Perché non può darla Corta a tutti quanti È soltanto due simboli Se do un puntino Alla E Un trattino Alla E poi Dove ho finito Perché Se voglio dare un altro Parola codice Lunga 1 C'è sempre Puntino Trattino Mi ripeterei Quindi sarebbe Non sarebbe Di capire Cosa è stato trasmesso Quindi se Qualche lettere Molto corta La E Un solo puntino Vuol dire Qualche altra etta Deve essere forza Molto lunga La Q Per esempio La P E così via Questo è un codice Lunghezza variabile Quindi un'altra idea Molto Questa è compressione dati Ragazzi L'idea che è stata A base Della compressione dati Quindi file zip Sfruttano questa idea qui Quindi anche questo Tra l'idea Fale elettrico Già racchiude Tantissime Quasi tutte Esattamente Gli stessi blocchi Che sono presenti In un moderno Sistema di comunicazione Qualche informazione storica O più che altro Curiosità 1847 Il primo esperimento Pisa di Vorno Ah scusate Qui non ci ho messo nulla Ora stiamo anche riprendendo Non ho messo le fonti Ma le fonti sono prese dal web Quindi ci sarà qualche immagine Che sta presa a wikipedia Qualche altra immagine Che sta presa altrove Qui c'è copyright qui sopra Però non è che la stanno utilizzando Il vetro Sono soltanto informazioni Cine di Molto di basso livello È soltanto un'introduzione storica Quindi noi Soprasteghiamo tranquillamente 1849 Linea Inizialmente uso militare Perché le comunicazioni Più importanti Sono andate in questa maniera Nascono stesso Per uso militare Internet Nata dall'ARPA Arpanet Quindi prima militare E poi dopo si diffonde E così via Però è interessante vedere Che nel 1961 C'erano 355 uffici E 16.000 km di linee 10 anni dopo 1.237 uffici Telegrafici E 50.000 km di linee Perché poi dopo si scopre Che sono molto utili E vengono utilizzate Dall'Italia all'estero Al di fuori d'Italia In Europa E poi dall'interno Del continente europeo In altri continenti Anche separati Da un'oceano Come fai a collegare I due punti Separati da un'oceano Con cavi Sotto malinie A questo punto E questo è un esempio Qui siamo al 1858 Sempre se le dati Sono corrette Ma insomma Come vedete Dalla distribuzione Delle linee È interessante Verificare Vedere che Essenzialmente Sono linee Collegano La matripalte Con le colonie L'Inghilterra Con l'America L'India L'Australia La Spagna Portogallo Con il Sud America Essenzialmente All'inizio Servivano per Controllare Le colonie E per avere Informazioni commerciali E scambi commerciali Con le colonie Poi però Chiaramente L'utilità Di queste forme Di comunicazione È immensa E quindi È esplosa Ulteriore avanzamento Fino ad adesso Abbiamo visto Collegamenti No fino ad adesso Abbiamo visto Sia wireless Che wired Il telegrafo ottico Di Polibia Era wireless Non aveva mica Di cavi Poi quella elettrica È wired Quindi è nato anche qui Prima il wireless E poi il wired E poi di nuovo Il wireless Perché hanno fatto Il telegrafo Elettrico Ma senza tiri Essenzialmente Marconi È accreditato Come quello Che l'ha inventato Anche ci sono Molte altre persone Ci hanno lavorato Ho utilizzato Ho utilizzato Una stazione del genere Per trasmettere E ricevere Un segnale Essenzialmente A sfruttare il fatto Che una lamiera Quando viene investita Da un'onda elettromagnetica Genera una corrente indotta Che chiusa da un circuito Può essere eletta E quindi posso mangiare Un impulso lungo E un impulso breve Esattamente come ho fatto Con il telegrafo elettrico Con il wired Quello di Morse Ci sono tante altre persone Che ci hanno lavorato Hughes Hertz Nikola Tesla Bose Karendiano Popov Brown Edison Tantissime persone Ma pare che insomma Marconi è quello Che ci ha fatto Uno dei primi brevetti Tra l'altro L'ho anche proposto All'italiano all'epoca Ma l'hanno reso per pazzo E infatti Si è rivolto all'Inghilterra E lì l'hanno accolto A braccia aperta E lì ha fondato Una bella e grossa compagnia Chiaramente Una volta che una storia In grave trasmettere Senza fili Punti in linee Quindi un segnale digitale Poi il passo successivo Per trasmettersi Una forma d'onda continua La voce umana O della musica E breve E quindi la radio Primo esperimento Fessenden Canada 1900 Trasmette un breve messaggio vocale A un chilometro e mezzo Ma già dopo sei anni Vedete c'è il primo programma radiofonico A 25 chilometri Massachusetts Ma torniamo un attimo indietro Perché prima di farlo wireless Il salto da Digitale e analogico Cioè da punti in linee Digitale Telegrafo elettrico A Analogico La voce Sul wireless Questo passaggio È stato fatto sul wired Cioè il telegrafo elettrico Si è trasformato Che trasmetteva punti in linee Il segnale digitale Si è trasformato in telefono Perché trasmetteva il segnale vocale I primi studi Sono stati fatti da Meucci E in realtà da tante altre persone Anche qui Noi riconosciamo Meucci Come essenzialmente Inventare il telefono Ma ci hanno lavorato parecchie altre persone Essenzialmente Che cosa ha fatto Anche lui Ha sfruttato questo fatto C'è Le vibrazioni Di una membrana Causate dalla Voce Io Parlo Per parlare Comprimo i polmoni Con il diaframma L'aria esce fuori dalla bocca Passa attraverso le corde vocali Che vibrano A una certa frequenza E le particelle d'aria Davanti alla mia bocca Cominciano a vibrare A quella stessa frequenza Se io mi diagrammo Ogni volta la particella va in avanti Comprime l'aria in avanti Ogni volta che va indietro C'è una depressione E se io diagrammo L'andamento della pressione Come varia il tempo Di questa particella Quella varia nel tempo Esattamente come variano Le corde vocali Nel tempo La vibrazione Qui il segnale vocale È essenzialmente Un segnale di pressione Che quando urta Una lastra Comincia a oscillare E se io diagrammo Lo spostamento della lastra Nel tempo C'è lo stesso andamento Quando la particella va in avanti Aumenta la pressione E la piastra si sposta in avanti Quando la particella va indietro Diminisce la pressione E la piastra va indietro Quindi Le oscillazioni I cambi di pressione Sono uguali I cambi di spostamento Della lastra E quindi Si può catturare Il segnale vocale Questa lastra Magari potrebbe collegare Un cilindretto A cui è legato Un sacco di spire Il cilindretto Fa avanti e indietro Dentro le spire Più spire con catena E più flusso indotto Genera E più correddente indotto Genera E quindi Oltre solo Nel segnale vocale Nel segnale elettrico Perché l'andamento È la corrente Che è maggiore Quando la lastra Vai avanti E minore quando Torni indietro Perché con catena Ha un maggior numero O un minore numero Le spire Segue esattamente L'andamento della voce Trasformate Un segnale elettrico E quello Un segnale incorrente Lo mando Su una coppia di fili Questa è un po' l'idea Ci hanno lavorato In molti E essenzialmente Tutto nasce da Faraday Che scopre le vibrazioni Su una piastra metallica Possa essere convertito In un segnale elettrico Come ho appena detto Manzetti E' uno che ha avuto Una bella idea Nel 44 Che intuisce questo fatto Ma poi Tra il 54 e il 65 Molte persone Ci hanno lavorato In parallelo Su questo argomento Manzetti Meucci Reis Costituiscono In maniera indipendente Il telefono Il primo prototipo Il telefono Poi è interessante Questa vita Un po' spedicolata Di Meucci Che era un inventore Se non sbaglio Era scritto L'Accademia delle Arte Poi ha fatto Il portiere Uscire In un teatro Poi si è trasferito All'Havana Per una compagnia teatrale Faceva l'ingegnere Montava l'estensione Dere scene Ha inventato di tutto Da un nuovo metodo Per fare le candere Ha affrontato anche Una società di candere A New York Spostato da Lavana A New York Ha inventato Le bibidi frizzanti Ha inventato Le cose più assurde Tra cui anche il telefono Pare che l'abbia inventato Per fare un collegamento Fisso Fra l'appartamento Di sopra e di sotto Della propria casa Perché la moglie Soffria di artrite Aromatoica E poi ha pensato bene Di brevettarlo E riuscito anche a brevettarlo Per primo Ma non aveva molti soldi Ha utilizzato solo un brevetto Temporaneo Di 20 dollari 1871 Solo provvisoria L'ha rinnovato Per un po' di anni E poi non aveva più soldi Non riuscito a rinnovarlo E nel 76 Il signor Bell Alexander Graham Bell Brevetta il telefono Perché non ha più coperto Il brevetto temporaneo Di Meucci Che era in restrizze economiche Anche se però Tutto l'America Sapeva che Meucci L'aveva già inventato E lo sta utilizzando Infatti dopo di questo C'è stata una causa Lunghissima Ma già nel 76 Bell fonda La Bell Telephone Company Di Bell Labs Che adesso si chiama TNT Se non sbaglio Il carriere telefonico Più importante americano Ovviamente Da Vodafone Europea C'è stata una causa enorme Che è durata tantissimo tempo Fra Bell e Meucci O meglio Fra chi aveva comprato Poi dopo I diritti di Meucci E se non sbaglio È finito con Il patteggiamento È finita un po' così Con il pagamento Di una grossa cifra Da parte di Bell Alla compagnia Avversaria Ma chiaramente Questa grossa cifra Non era nulla Perché nel frattempo La Bell era diventata Un colosso E quindi è rimasta così Tant'è vero Che in America Tutti quanti sanno Il telefono Che è stato inventato Da Bell Mentre noi in Italia Sappiamo tutti quanti Che è stato inventato Da Meucci E' un po' questa la differenza Tuttavia nel 2002 Il congresso americano Ha ristabilito un po' 2002 Recentissimo La verità Accreditando Meucci Come inventore del telefono Un po' di Qualche esempio Di apparecchi telefonici Ma insomma Ci interessa poco Una centrale telefonica New York Perché una centrale telefonica È perché All'inizio il telefono L'ho utilizzato Come interfono Tra un appartamento E l'altro Di casa Poi dagli industriali Che volevano Collegare le varie Sedi Nella stessa azienda Poi però Si è diffuso Tantissimo E a quel punto Non si poteva collegare Ogni apparecchio telefonico Del mondo Con ogni altro Apparecchio telefonico Del mondo Non era possibile Ma si poteva invece Collegare Ogni apparecchio telefonico A una rete Tutti gli apparecchi Si sono collegati Alla rete E poi la rete Distribuisce in strada Le chiamate E infatti Una volta Se mi ricordate Qualche film Si alzava il telefono E si chiamava Il centralino E poi il centralino Che vi dava il numero Facendo dei collegamenti Che all'inizio Erano proprio manuali Ecco lì Le centraliste Le dicevano telefonate E poi Estradano la chiamata Che su una rete Se io voglio collegare Il punto A Che sta qui O il punto B Che sta qui Tramite questa rete Ci sono magari Tanti percorsi La centralista Sta facendo proprio Un collegamento Collegava questi due punti Facendoli passare qui 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 E poi qui Però aveva un collegamento Elettrico Un cortocircuito Infatti i primi Commutatori Erano analogici Ed era addirittura Manuale E poi si è cominciato Con la Commutazione elettronica E poi Questo è un signore Che forse conoscete Claude Elwood Shannon Morto tra l'altro Di recente Nel 2001 E' considerato Il padre Delle comunicazioni numeriche Quindi del digitale Perché Beh Prima di lui 1924 Nike Quist determina Il massimo Tasso di trasmissione Che può essere utilizzato Su una linea telefonica Telegrafica A una certa banda W Per trasmettere Senza interferenza Intersimbolica Che significa Tutto questo? Beh Una mezza idea La avete Perché avete fatto Teoria di segnali Quindi qualcosa La sapete Supponete che io voglio Trasmettere degli impulsi Di corrente Ok Se voglio trasmettere Lentamente Faccio degli impulsi Peri lunghi 1 0 1 0 1 E così via Questa è una modulazione On off 1 Impulso presente 0 Impulso assente Per esempio Se questo impulso E' lungo T secondi La sua banda E' roba Tipo 1 su T Banda molto piccola Il canale Non distorce il segnale Io ricevo qualcosa Di rumoroso Ma pur sempre Simile A quello che avevo Trasmesso Attenuato Un po' rumoroso Massimile A quello trasmesso Niente Qua Ancora 1 E poi ancora 1 Ok Se però Voglio trasmettere Più velocemente Devo fare Impulsi più piccoli Ma se faccio Impulsi più piccoli 1 su T La banda E' molto più grande Ma se la banda E' molto più grande Il canale Non è più piatto Comincia a deformare Il segnale Distorsione E se lo deforma Lo allarga Lo distorce Infatti Il rapporto Ingresso-uscita Tra un segnale S e D Che entra in un sistema Qual è? S convoluto H Se H è una delta S stesso Rimane inalterato Ma se H è una delta La convoluzione Allarga il segnale E quindi Che succede? Questo segnale Diventa così Vedete Quest'uno impade Lo zero a destra Quest'uno qua Impade Lo zero a sinistra E l'uno a destra Quest'uno qua Impade Uno a sinistra E l'uno a destra E così via E i simboli Cominciano a darsi I pastigli L'un e gli altri Interferenza del terziboglio Non si può trasmettere Troppo velocemente Qual è il massimo Tasto di trasmissione? Tasto di Nyquist 48 E guardate Queste tre cose Sono tre cose importantissime Tutte nel 1948 Shannon era un matematico Che lavorava In Bell Labs Guardate un po' Durante la guerra Se non sbaglio E anche nel primo Devo guerra In un paio d'anni Ha scritto due lavori E questi due lavori Sono il fondamento Di tutte le telemunicazioni Le cose più importanti Beh Il terreno del campionamento Lo chiamate Terreno di Shannon Dimostra che è possibile Ricostruire un segnale A banda W Partendo dalla sequenza Dei campioni Se presi una frequenza Maggiore la frequenza E neanche questo Uno stuputo Terreno del campionamento Shannon Sempre al 48 Un altro lavoro Shannon determina Il massimo tasso Di compressione Compressione Che uno può avere Senza perdita Di informazione E questo è il fondamento Per la compressione Dali Tutti gli algoritmi Di compressione Che conoscete Nascono qui Qualsiasi tipo di compressione Nasce da qui Dal fatto che si può comprimere Un messaggio Può essere compresso Il messaggio È fatto da informazione E da ridondanza Io posso comprimere Questo messaggio E finendo a tutta ridondanza Ma oltre a un certo livello Non posso andare Perché a quel punto Cominci a perdere anche informazione Qual è il massimo livello Di compressione? Ce l'ha detto Shannon Dentro via La farete poi Casomai In un corso più avanzato Non questo Information theory E questo è il primo Teorema importantissimo Massimo tasso di compressione Delle informazioni Il secondo teorema Importantissimo Sempre nello stesso Lavoro È il massimo Tasso di trasmissione Per avere Una comunicazione affidabile Se io trasmetto Una certa informazione A una certa velocità Magari voi ricevete Questa informazione Con pochi errori E la comunicazione Va a buon fine Se io comincio a trasmettere Troppo velocemente È come se il canale Si riempia Va del nuovo flow E l'informazione Non riesce a arrivare Qual è il massimo Tassi di trasmissione? La capacità di canale Si può misurare? Shannon Gli ultimi 60 anni 47 Bratton Bardin Shockley Inventano il transistor Prima c'erano le valvole Enormi Vi ricordate i primi calcolatori Gigantesi Prima la macchina Di Turing La prima Uno dei primi calcolatori È Colossus Tra l'altro anche quello Utilizzato Per scopi militari Per decifrare Un codice enigma Turing Valvole Spazio enorme Transistor Spazio molto più piccolo Si comincia ad andare Nella diminuzione La dimensione degli oggetti Kill B E noise Non so se si pronuncia così Invento il circuito integrato Ancora più piccolo Ah tra l'altro Scusate Apro il chiudo prendesi Marconi vince il Nobel Per la dimensione della Rai Passiamo ad un'altra persona 58 Tons E Shallow Invento il laser Che ha applicazioni infinite Per le telecomunicazioni Il laser viene utilizzato Come trasmettitore Nella fibra ottica Quindi figurate Quanto può essere importante Tutto ormai Il viaggio di fibra ottica 61 Baran e Davis Definisco il concetto Del packet switching Switching vuol dire Commutazione Commutazione di pacchetto Prima la rete telefonica Funzionava Con un'inventazione di circuito Cioè Quando io Telefono a un mio amico Si installava un circuito C'è un percorso Dal punto A Di una rete Al punto B Di questa rete Si sceglia un percorso Con qualsiasi criterio E il circuito Viene aperto Rimane aperto Per tutto Rimane tutto aperto Per tutto All'interno della comunicazione Commutazione E senza scelgo Di interruttori Per fare quel percorso Di circuito Perché stabilisco Un circuito Qualità eccezionale Perché quel circuito È solo mio Problema Che quando io sto zitto Non può permettere nulla E magari Quello circuito Potrebbe utilizzare Qualcun altro Quindi Un uso inefficiente La rete Di qui Del packet switching Cioè Questo messaggio Che io sto La mia parola La mia comunicazione Io sto parlando Dividere in questo pacchetto Dividere in tanti pacchetti Più piccoli Numerali E mandali sulla rete Ognuno fa il percorso Più breve In quel momento Quindi il primo pacchetto Fa il percorso Più breve In quel momento Il secondo pacchetto Segue lo stesso percorso Il primo Il terzo Magari trovi il primo Circuito O linea Che aveva scelto Che aveva scelto Il tuo pacchetto Occupata Perché magari C'è una rottura Perché c'è un sovraccarico O qualsiasi altro motivo Sceglia Sceglia altri percorsi In recessione Si ricevono i pacchetti Che a questo punto Possono arrivare In momenti differenti Perché magari Il primo pacchetto Ha scelto una strada Molto più lunga Da un punto di vista Temporale Del secondo pacchetto E quindi Il secondo pacchetto Arriva prima del primo Prego i numerati Quindi li posso rimettere in ordine E un attimo Allora mi serve un buffer Perché io Per mettere il primo pacchetto In testa Devo aspettare Che arriva il primo pacchetto Ma se il primo pacchetto Arriva per terzo Devo aspettare Che arrivano tre pacchetti Per poter rimettere in ordine giusto C'è bisogno di un buffer di memoria Quindi una leggera latenza Però se è molto piccolo Non ve lo accorgete E questo è il pacchetto switching La comunicazione cellulare Avviene in questa maniera Mentre invece quella telefonica Avviene in circuit switching Comunque è importantissimo Perché il packet switching Sta alla base di internet Internet funziona A commutazione di pacchetti Non dice qui Le comunicazioni digitali Su rete Poi internet È una rete di reti Poi dopo Il 62 Il primo satellite Trasmette un segnale tv Tra Europa e Stati Uniti Con i comunicazioni satellitari E poi Ah il 66 Kao e Ockham Dimostrano che le fibre ottiche Possano essere trasmessi Possano essere utilizzate Per le comunicazioni Bene Altre 20 minuti Ci andiamo Perché È inutile fare 1 ora e 10 di lezione Poi 10 minuti di pausa E poi altri 20 minuti Quindi Oggi finiamo qui Elementi In un sistema elettrico Di comunicazione Beh più o meno Li abbiamo visti tutti quanti Perché abbiamo fatto gli esempi Questo è uno schema Di un sistema di comunicazione Il più generico Che potete immaginare Tutti i sistemi di comunicazione Possono essere rappresentati In questa maniera C'è sempre una sorgente Che mette l'informazione E al massimo Questo input transducer Quindi un trasduttore Perché magari Lo schema di comunicazione È un sistema elettrico Di comunicazione Quindi Viaggia A segnali elettrici Ma La sorgente di informazione È una persona Che sta parlando Come faccio A trasmettere la voce Su un sistema elettrico Ho bisogno di un trasduttore Che mi trasformi La voce In un segnale elettrico Insomma Il microfono Ok Quindi c'è sempre Un Sorgente Che mette l'informazione E un trasduttore Che trasforma Il segnale di partenza In un segnale elettrico In genere Sono tutti elettrici I segnali Che lavorano Nel sistema di comunicazione Poi c'è un trasmettitore Un canale di comunicazione Un ricevitore E poi un trasduttore in uscita Giusto per dare un'idea Il telegrafo ottico Devo dirio Aveva come Sorgente di informazione La persona Voglia mandare un messaggio Mandatele l'inforzo Come Trasduttore Poteva essere La conversione Da lettere a fiaccole Trasmettitore Poteva essere La stazione Che alzava le fiaccole L'operatore Il canale Era Letere Che trasmetteva Il segnale luminoso Ricevitore E decodificatore Esattamente Gli stessi Blocchi I sistemi di comunicazione Possono essere Analogici E digitali In cosa si differenziano? Essenzialmente Nel tipo di segnale Che questi sistemi Emettono Lavorano In un sistema analogico Il messaggio informazionale È analogico In un sistema digitale Il messaggio informazionale A trasmettere È digitale Questo messaggio A trasmettere Però può essere Indensicamente digitale Per esempio Un messaggio di testo Se io mando un messaggio di testo Quello è digitale Sono caratteri Oppure Può essere Un segnale logico Che è stato trasformato In digitale Per esempio Una fotografia Che viene Oppure la voce Che viene Campionata E quantizzata E diventa digitale Una fotografia Viene scandalizzata Diventa una matrice pixel Digitale Ok? Quindi l'informazione Può essere Su cui lavora Un sistema digitale È digitale Ma quell'informazione Può essere digitale Perché era Prove di partenza Oppure perché era Analogica ma Stava convertita in digitale Per motivi E ci sono molti motivi Per convertirla In analogica digitale Ne vedremo Qualche di uno a breve Qualche di uno a breve E allora Ecco lo schema Di comunicazione Sistema digitale Questo si che si può utilizzare Ancora meglio Per descrivere Il trae C'è sempre Una Sorgente Che produce Un'informazione E un trasduttore In ingresso Questo blocco Qui È Un blocco Opzionale Fa la compressione I dati Source Encoder Codifica Di sorprendimento Comprime i dati Perché vorrei Comprimere i dati Perché più è piccolo E più lo posso Trasmettere velocemente Immaginate Questi dati Come valigie Che viaggiano In aereo Più è piccola La valigia E più la posso riempire Cioè Più comprime i miei panni La metto dentro la valigia E più ce ne posso Mettere dentro Poi c'è un secondo blocco Quindi questo blocco Essenzialmente Prende il messaggio In ingresso Che è fatto Da una parte Informazionale E da ridondanza Elimina la ridondanza Fa rimanere Solo l'informazione pure Codifica Sorgente Compressione Dati Poi il secondo blocco Si chiama Codifica Di canale Che cosa fa La codifica di canale Esattamente il contrario Di quello Che ha fatto La codifica esorgente Introduce Ridondanza Ripetizione Per rendersi Robusto Dalle interferenze Degli errori Introdotti dal canale E a questo punto Qualcuno si potrebbe Chiedere Ma come C'erano già Della ridondanza Perché l'hai tolta E adesso l'introduce Un esempio Di compressione Se dovessi Trasmettere La parola Quadro Potrei Chiaramente E sempre Eliminare La U Perché dopo la Q Nella lingua italiana C'è sempre la U E trasmettere Questa parola Ho fatto Compressione Dati Senza perdite Perché chiunque Sa Con questa regola Che se leggo Cadro So che Si tratta Di quadro Ho tolto Ridondanza Compressione Dati Tuttavia Se togli Tutta ridondanza Sei In pericolo Perché Il canale Introduce Inevitabilmente Errori E magari La trasmissione Qualche Impulsino lungo Diventa corto E viceversa Se fosse un Drega Eletrico Di Morse E magari Questa qui Nella trasmissione Diventa Una Q Diventa una L E io Leggo Ladro Che è comunque Una parola Di senso compiuto E non mi accolgo D'errore Mentre invece Se non avessi Compresso Avrei letto Un quadro Che non so Cosa significa Ma perlomeno Mi sono accorto D'errore E posso chiedere La ritrasmissione Del messaggio Quindi la ridondanza Serve Una ridondanza È una ripetizione Se uno ripete le cose Per sbagliarle Deve sbagliarle Tutte Se tu non ha solo istanze È facile sbagliare Una cosa Ma se è più di una istanza Per sbagliarle Deve sbagliare tutte O la maggioranza Che è meno probabile Tuttavia Questa ridondanza qua Quella intrinseca Del messaggio Non è strutturata Quindi ci faccio poco Quella invece Che introduco io Codifica il canale Ridondanza strutturata Il bit di validare C'è una certa struttura E la posso sfruttare In fase di codifica Per correggere Eventuali errori Introtti dal canale Questi due oggetti Sono opzionali Perché io posso Anche non metterci Una compressione di dati Non la faccio E vabbè Il messaggio sarà più lungo E trasmetterò Però posso sempre trasmetterlo Posso anche Non farla Codifica il canale Ci sarà qualche errore La probabilità di errore Sarà un po' più grande Pazienza Trasmetto meno Velocemente Ma la posso sempre Trasmettere E poi Modulazione Il modulatore Che cosa serve? Il modulatore Adatta Il segnale Trasmettere Alle specifiche Del canale L'esempio Un'antenna Che vi ho detto prima Se io ho un segnale Che è un segnale vocale Che ci abbanda A 4kHz 4kHz Va da 0 Da 300 a 3.300Hz Il grosso Andiamo pure Da 0 a 4.000Hz 4kHz Se io quel segnale La mando sull'antenna E non esce proprio nulla Da un'antenna Perché L'antenna trasmette Se gli mando un segnale A alta frequenza Alla giusta frequenza Lo devo mandare A quella frequenza lì Ma Altro esempio E chi è che ce lo manda? Il modulatore Un altro esempio Potrebbe essere La canalizzazione radio Ci sono tanti canali radio A me è assegnato Il canale X E io ce lo devo portare Il mio segnale Che sta in base Sul canale X Come ce lo porto? Con una modulazione Lo prendo E lo sposto in frequenza A quella frequenza A questo ci pensa Il modulatore Poi c'è il canale Di trasmissione Che trasmette Questo messaggio Al ricevitore Il ricevitore È dotato Di un demodulatore Che riporta In banda base Di una decodifica Di canale Che toglie La ridondanza Introdotta Da me E corregge O rileva Rileva E magari anche Corregge E poi Avrò i prodotti Al canale Decomprime La sorgente Perché magari Mi hanno dato Una versione compressa E finalmente La passa Al trasduttore In uscita Che magari Può essere Un altoparlante Stiamo parlando Microfono Trasduttore In ingresso Altoparlante Trasduttore In uscita E un ulteriore blocco Opzionale Che quasi Molto spesso Ce n'è È il blocco Che fa la grittografia Che chiaramente Lo metto qui dentro Fra il source Encoder E il channel Encoder La grittografia Che cosa fa? La grittografia Si occupa Delle tecniche Per rendere Non intelligibile Un messaggio A persone A cui Quel messaggio Non è indirizzato Si utilizza Lappertutto Quando fate Login Sulla pagina Sulla vostra email Oppure quando mandate Un numero di carta Di credito Al venditore Per comprare Un prodotto Non volete mica Che qualcuno Che sta lì Un hacker Stia lì Ad ascoltare Il messaggio Che sta le mandando In quel caso Il numero di carta Di credito No E infatti In quei casi La trasmissione Sul protocollo Diventa Http Https L'assist Sta per secure In quel caso Le informazioni Sono grittografate Quindi È difficile Vengono decifrate Serve a proteggere Le informazioni Ma anche questa È opzionale Perché qualcuno Potrebbe anche Dire almeno Interessa Di mandare Roba cifrata Per esempio La radio È broadcast Quindi Dove mandare Come informazioni A tutti Qual è il motivo Cifrato La cifre Soltanto Quando voglio Che La riceve Allora Ho un decoder Con una certa Tesserina Che c'è il codice Per decifrarla La chiave Per decifrarla Vantaggi E svantaggi Del digitale Perché qualcuno Ci potrebbe chiedere Come mai Si sta passando Sempre più In maniera Insistente Verso le comunicazioni Digitali Beh I vantaggi Sono tanti Maggiore Robustezza Al rumore Perché Grazie alla codifica Di canale Io posso fare Codifica di canale Introdurre questi Bit di parità E mi aiuto A correggere Eventuali errori Introdotti Al canale Che posso quindi Riminarli Mentre invece Criptografia La vedrete Chi la sceglierà In un'altra materia Criptografia E network security E cyber security Esame a scelta La magistrale Mentre L'altro invece Information theory Un esame Obbligatorio La magistrale In TLC Obbligatorio La magistrale In informatica I segnali sistemi L'avete visto A teoria dei segnali Noi qui In questo corso Essenzialmente Faremo questo Modulatore Demodulatore I canali fisici Poi avete Le altre materie Le antenne I cavi Le guide d'onda Torniamo a mettere indietro Oppure andiamo avanti Altro vantaggio enorme È l'indipendenza Del tipo di segnale Da trasmettere Nei sistemi digitali Lo venirei accorgendo Tutti i giorni Utilizando il cellulare Con il cellulare È l'unico oggetto Trasmettere E-mail SMS Chat Voce Dati Immagini Video Segnali Di natura Comprendenti Differenti Vengono tutti quanti Trasmessi Utilizzando un unico oggetto Come si fa? Il digitale Te lo permette Questa opzione Perché Una volta che il segnale Tra una logica È straconvertito In digitale È diventato una stringa Di bit Dei simboli Ora Questa stringa di bit Rappresenta un'immagine Rappresenta una voce Oppure un SMS Un messaggio di testo Alla sistema Non importa Lui vede soltanto Una stringa di bit Quindi con l'unico sistema Potete trasmettere Segnali di diversa natura Quindi Grossa versatilità Chiaramente Proprio per questo motivo Che si possono utilizzare Segnali grossi È indipendente Del tipo di segnale Quindi è molto versatil Che posso utilizzare Un unico oggetto Per fare tante cose E allora Quell'oggetto Lo posso fare in serie E quindi posso utilizzare Circuiteria a basso costo Perché viene prodotto Su larga scala Possibilità di effettuare Compressione tali Perché io posso fare Come avete visto Formato di P3 P4 È un formato di compressione Lossi Quindi con perdita Formato di compressione Zip È un formato di Bzip Gzip E tutti gli altri Acronimi Che voi sapete meglio di me Sono formati di compressione Lossless Diff Sono formati di compressione Per immagini Lossless Quindi senza perdita Ma si può fare Perché è digitale L'informazione E possibilità di comunicazione Sicura Tramite la criptografia Perché una volta Che ho una stringa di bit Io posso modificare Ho una stringa di bit Bit a bit Per una chiave Che conosco solo io E per decodificarla C'è bisogno di quella chiave Quindi comunicazione sicura Chiaramente ci sono anche Di contro Però i contro Sono meno dei pro Dei vantaggi Gli svantaggi sono In genere Una maggiore banda Perché una volta Convertite Dall'analogica Digitale Vedremo Se allargherai in banda Quindi sei una banda maggiore E quindi occupo Più risorse Le risorse mie Sono la potenza Che utilizzo per trasmettere Perché mi costa batteria Mi costa Energia E la banda Che occupo Perché occupo Una certa banda sul canale Che voglio utilizzare Anche le altre E quindi mi costa Questi sono gli oggetti Che più sono importanti E quindi uno svantaggio È l'utilizzo Di piego maggiore Della banda Un altro svantaggio È che necessitano Di una sincronizzazione Perché chiaramente Il bit comincia A un certo istante di tempo E devo sapere Quando comincia Per cominciare A decodificare quel bit Direi che i nostri 50 minuti Sono più o meno passati Qui vorrevo fare Qualche chiacchiera Ancora Per darvi un'idea Dei tipici sistemi E canali Mezzi di trasmissione O canali di comunicazione Magnotizzati nella pratica Ma lo vediamo Alla prossima volta Quindi anche la prossima Alla prossima